comunque se ricarichi e salti si ricarica subito non ho mica capito il motivo fai vedere fai fuori tutti i colpi ok aspetta ok salto ah ok figo non so se è voluto ma stai male che devi fare a far fuori un bel po di colpi e ricaricare quando sei in ricarica salti subito e provato ombre faccio fuori così no sono a sette colpi ricarico salto adesso lascio subito almeno con questo personaggio così non so se con gli altri così anche che ha dovrò prendere il quadrato e poi saltare subito no non subito uguale quando salvo schiaccia quadrato non te lo fa? no livello 3 già bella com'è con trezzi l'ombra con una carnuta all'ombre con un ruolo pochino a callello all'ombre sei già a livello 10 ehi 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 questo gioco qua è sei over power quando salti guarda ne che ne che ti dica 2009 ma tutti sono del 2009 serviva giocare serviva quella kill ombre c'è un altro qua di quello lì è l'arcangelo gabriele ombre guarda porco dio c'è c'è il trelino oddio guardate che è arrivato ma poi quanto è fatto bene raga ma voglia pensa su ps5 il gioco così mi ha detto sulla pro io che in 4k eh fanculo io non lo vedo neanche in 4k sulla mia alex ombre che schifo che falle veramente cambia nulla cambia nulla orca di questa è che questa è che non prendo un pazzo di livello basta a pensare ai livelli basta a pensare ai livelli ombre basta veramente la rosalia rossi i coglioni un'altra zucca c'è simone basta venire a fottermi le kill tanto lo faccio tutte io bella vediamo un po' quanto siamo sono a 100 kill comunque avete un distacco della madonna da me che scarsi che siete eh ma tutti impegnati io no eh io mi impegnati simone devi accettare questo fatto perché sei scarso con qualcosa bella l'ho fatta io dove sono raga oh guardalo lì è ancora lì quel cazzo di stronzo poi scappa bastardo di merda dove? ah il cittadino oh guardalo pò eh sì a me ragione eh ah 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 ma che cos'è che fa con l'l1 io non ho capito eh tipo una cosa che li spazza via ah che li spinge via eh tipo ah ah ho ucciso ancora io sto gioco sì ommeno facciamo subito un'altra così il livello è già il 10 e poi ho già superato, bella, bella, bella andiamo a divertilandia? no 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 mai non dobbiamo più ho visto la pianta la maxo di ocaro quale pianta maxi? maxo, c'è arrivato al 10 è un drago zio sicuro eh certo c'è proprio un bambino vabbè ma che bambini ma l'arancia com'è? l'arancia molto forte comunque guarda che bella ombre la mia lancia, il mio draghetto adesso cazzo, quella roba che c'è, minchia, c'è l'elma che è in urma, cazzo una doppia testa c'è un po' ingombrante, cazzo cazzo è una doppia testa mi piace che lo toglierò per una volta che ho trovato qualcosa del drago Non è vero, Nick. Non c'è. Odi, oh. Ah, è troppo grosso, figa. E' un peccato. Il caldo non resta a vedere le cose intorno perchè si rompe tutto sto casco. Ma basta. Guarda che c'è Arlindo che dice ma basta. guarda che c'è lo scarsone di code che non vuole giocare qua arrivato quarto in battle royale singolo ma niente arlindo scarsone comunque perché non giochi qua l'amica è mega bello lega bello sto gioco arlindo altro che quello giocare singolo è troppo un calorati piace ombra ho fatto bene a fartelo prendere allora e mi giocherò anche il 2 e poi non finisco questo e compri il 2 e non finisco poi e poi il 2 è brutto e devo starci veramente in mesi ombra vieni sull'1 che ti faccio il culo no Simone mi sa che ti faccio il culo più io sull'1 e l'abbiamo visto abbiamo notato abbiamo ancora giocare a resident evil io e tesco ma basta giocare quanti giochi devi giocare ombre ma piantala di a caro piantala veramente sai dovevo giocare con tiago ma lui compra le cose poi non ci gioca vaffanculo l'odioso quell'uomo davide 2 porco dio lo so io l'ho sempre detto che davide 2 e non mi credete anche nei comportamenti come davide 2 volte tiago quello che andavano tanto d'accordo tiago ponna l'erci ora simone come li scocchilla tutti però io passerò il mezzo così non è un approfittatore come davide meno succhi bimbo ti giuro ora se penso che io ora meglio che non penso giocare guardate già 41 ki sono già primo raga muovete il culo a recuperarmi un po' palle raga non è possibile che batta il supporto vasi simone 150 troppo forte veramente troppe 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 ma non mi mette dentro cioè l'ho messo tutti io i vasetti che figlio di troia ehi arlino dire cose brutte e cattive dai ma che simone è ma si simone è un figlio di troia bambini cazzo mi fustano le palle di sudore raga però non è brutto non è brutto comodore raga vi dico non ti piace eh ma non lo so spiegare è un po' di coltato cioè non è brutto comodore a me non dà sostegno raga cioè c'è l'odore di merda e c'è diverso non è nemico se cazzo sono ammettio quanti non sto facendo qua ammettio di macchina il limone invece è una ricotta dio caro di che senso? eh spizzi di merda te guarda quelli col secchietto in testa quanto resistono guarda lì guarda lì io non li trovo sti cazzo di eh c'ho l'ombra sto usando anche il draghetto li scocchillo tutti io ombra ma che resistenti sono ste cabine è abbastanza vediamo un po' ombra quante kill una pane una pane ok ombra il super bag non dovi di più guarda qua ombra bambino bambino ombra guarda che vuole sempre essere primo come me comunque c'è l'altro che c'è il funghetto come me ha fatto un cazzo di tiro cacare fa vedere eh sembra comunque qua la gente è scarsa chi viene d'accordo qua è Dio c'è l'altro che c'è già il vostro e io ancora non ho fatto il livello nemmeno di questo orca troppo non è possibile no ma se lo farai ma che livello sono io si vede che non ho sul boost ovviamente la avevo tolti però cazzo c'è così poco oh ma metti il boost qua eh ma c'ho lo quasi per potenziare il personaggio oh ste cabine quanta cazzo di vita hanno porca troia oddio se li ho tolto a sto boss qua raga mamma mia li ho tolto tantissimo sono solo ieri un boss l'ho ucciso io bella attenzione vediamo chi ucciderà questo boss ecco quello lì l'ho ucciso io tolto quasi tutta io la vita lui qua c'è un altro oddio cazzo di strecone è forte oh ma come è andato a non prenderlo raga sta arrivando quello grosso di qua eh appunto guarda che mi ha rubato anche questo troia porca dio 299 la michia ti blocco la crescita figlio di puttana ahahahah coddio ahahahah 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 ombre guarda che l'ha ucciso ehm ehm eh va bene